Signore e signori buongiorno e benvenuti in questo nuovo video Oggi cambio di programma, inizialmente si era pensato di andare verso coste, laghi di idro e di ledro Invece no, motivi familiari, come si scrive nelle giustificazioni a scuola Finchè non mi arriva un bel messaggio da Giovanni Oggi pomeriggio facciamo un giretto in Val Trebbia Come fai a dire di no? Oggi signori si va in palestra Quindi Val Trebbia, giretto tranquillo Non è mai tranquilla la Val Trebbia Direzione Bobbio dove dobbiamo trovare Giovanni e i suoi amici Ci rivediamo dopo quando riusciamo a beccarli E dal bar più famoso di Bobbio, Val Giardino, aspettiamo gli altri Sono un po' indietro, quasi quasi una scappata al penice, prima che arrivano Allora, Giovanni sta arrivando con i suoi amici Mi ha detto che sono un attimino in ritardo, questo non mi ha visto arrivare Siccome il luogo di ritrovo era il Val Giardino a Bobbio E il Val Giardino è proprio ai piedi di una bellissima strada che ti porta sul monte penice Perché non rifarlo, visto che l'ultima volta che l'ho fatta pioveva Facciamo una scappatina su al penice È un misto strettissimo Però è molto bello Guarda che roba Mamma mia Uno scud È appena arrivato uno scud in faccia Ho la visiera spatasciata Non vedo più niente Wow Oggi Palestra Tra penice e Val Trebbia Queste sono palestre Per l'archiva In moto Bella Non me la ricordavo Bellissima L'ultima volta che l'ho fatta pioveva È proprio due anni fa Chi ce la ricordo Oh oh È un Come si dice Un trampolino Che bella È una strada Una montagna russa Una primavera Impazzita Ci sono 30 gradi ragazzi Che spettacolo Wow Bellissimo Eh c'è qualcuno Qualcuno c'è Qualcuno c'è Scappata dal penice Adesso torniamo giù a Bobby E vediamo se Giovanni è arrivato 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 ah che spettacolo ciao mettiamo anche la terza bella molto bella e non ho pulito il casco abbiamo recuperato Giovanni e i suoi amici di cui mi sono già dimenticato il nome scusate e adesso si fa un pezzettino di Valtrebbia ragazzi che giornata che uscita bellissima qua cominciano i lavori vediamo se più avanti diventa più libero o c'è ancora il semaforo 3, 2, 1 eeeh eeeh attenzione l'asfalto nuovo non ci credo ma che bello ma che cos'è oh mamma oh mamma oh mamma oh mamma oh mamma non lo so ma se come in Spider-Man c'è un gol di macchina nuova qui c'è un Stark c'è un Stark oh mamma ahah 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 ah ahah ahah e' sempre un'asostra ahah ahah bella ho detto che è una giusta questa strada dai Giovanni con questo 2.0 che pensa il tempo nella Valtrebbia mamma mia la giornata perfetta non esiste bella molto bella sempre bella sempre un capolavoro di strada bella sta cominciando a spingere bello ma è un autovolante non è una strada bella lì stringi veramente se riesci a prendere il ritmo ah è una bella bella liscia bene ragazzi fine del video sosta obbligata barchiara adesso si torna verso bobbio noi ci vediamo nel prossimo video e buona moto a tutti lungo mattia lungo non va bene c'era c'era che prendeva anche piano però mi sono impanicato e mi dava errore nel precarico adesso lo spento l'ho riaccenso a posto forse perché era parcheggiata sulla ghiaia inclinata ma tu lo senti eh si lavora meno non è vero ne capisco giovanni accampavo scusa per il lungo che ho fatto